La Libia non è per noi un paese normale, è un paese fondamentale, un paese particolare, è il paese dal quale le nostre aziende prendono l'approvvigionamento energetico, è il paese dal quale arriva l'immigrazione per lo più clandestina che il governo non sa gestire, è il paese nel quale abbiamo giù aziende, interessi e lavoratori, è il paese nel quale bisognerebbe intervenire e trovare soluzioni ed è il paese nel quale il governo una volta di più dorme sogni profondi. Non ha intavolato una minima discussione né in Europa né all'ONU per cercare di rispondere alle esigenze e al problema della Libia. Da qui la conseguenza evidente è che le nostre aziende sono in difficoltà e non possono comunque rinunciare alla Libia per ovvi motivi di carattere economico e più in generale per l'Italia per ovvi motivi di carattere energetico. Continuiamo a gestire l'emergenza a clandestini, avendo battuto ogni record planetario per l'arrivo di clandestini che poi vengono pagati, vengono mantenuti con i soldi degli italiani e in un momento di crisi economica non si capisce. Mi scusi, record planetario riferito a cosa? Riferito all'immigrazione. L'Agenzia Europea per gli Immigrati ci ha detto che in tutto il 2014 sono arrivati in Europa 245 mila clandestini. Di questi 245 mila clandestini arrivati in tutta Europa, 180 mila sono arrivati tramite l'Italia. Vuol dire che delle due l'una o in Europa fanno i controlli o l'Italia ha come scelta politica quella di accogliere i clandestini perché non è possibile che in un anno arrivano 180 mila clandestini in Italia. Possono arrivare perché se domani mattina tutti i senza documento del mondo decidono di arrivare in Italia cosa facciamo? Ne prendiamo 10 milioni, 20 milioni, 30 milioni perché il governo ha deciso di prendere chiunque arriva qui e dica chiedo asilo. È evidente, lo dicono i numeri, il governo è fallimentare su mille politiche di cui quest'ultima vicenda di cronaca terribile ne è un'ulteriore prova del 9.